Un taglio al sociale di oltre un miliardo di euro, che per la Regione Veneto significa 77 milioni di euro in meno, dai 107 del 2010 ai 30 del 2011. I numeri arrivano direttamente dal Consiglio dei Ministri, che ha appena licenziato la manovra finanziaria operando interventi drastici. I 30 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza, trasferiti l'anno scorso dallo Stato alla nostra Regione ad esempio, nel 2011 saranno pari a zero. Ma questo, per noi, cosa significa? Significa togliere 30 milioni di euro per quanto riguarda la non autosufficienza, quindi significa ridurre di un terzo, obbligare la Regione a ridurre di un terzo i servizi domiciliari agli anziani. Assistenza domiciliare integrata, significa diminuire di un terzo gli assegni di cura, i servizi di sollievo, il telesoccorso, eccetera. Quindi vuol dire mettere in grave difficoltà tutte quelle persone che hanno deciso di tenere i loro cari a casa, accudendone in un momento difficile di non autosufficienza. Sono circa 35 mila in Veneto i non autosufficienti che se non potranno essere accuditi a casa dovranno rivolgersi ai servizi ospedalieri e lo Stato in questo modo spenderà di più. Un ricovero in geriatria, infatti, costa allo Stato circa 400 euro al giorno. Inoltre, le finanze della sanità, anche di quella Veneta, non godono di ottima salute. La sanità Veneta, abbiamo visto in questi giorni, ha i suoi problemi e non so quanto con i fondi sanitari si riuscirà a far fronte alla mancanza di risorse nell'ambito sociale. Ecco, perché sia questa carenza di risorse che proviene dallo Stato nell'ambito sociale, sia aggiunge anche una carenza di risorse nell'ambito sanitario, la situazione rischia di diventare drammatica. Ha zerato anche il fondo per le politiche giovanili e ridotto a meno di un terzo quello per le famiglie, già alle prese, con enormi problemi finanziari. Un governo che ha messo nei propri programmi di fare il quaziente familiare, continua a dichiararlo, non si fa, ma non solo non si fa il quaziente familiare, ma si taglia anche quel poco di risorse che vengono date alle regioni per supportare i servizi alla famiglia. Pensiamo agli asili, agli asili nido, ai servizi alla prima infanzia, pensiamo agli consultori, cioè tutti quei fondi lì sono stati di fatto quasi a zerati. Grazie.